Paul Klee, 1879-1940 Pittore svizzero, Paul Klee studia a Monaco sotto Nier e Stuck. Agli inizi del Novecento ha forti legami con il gruppo Der Blaue Reiter. Tra il 1920 e il 1931 fa parte del Bauhaus. Klee crea un suo originale linguaggio artistico fatto di simboli che riflette il suo talento non solo di pittore ma anche di musicista e poeta.